ciao amici avete mai fatto caso a quelle colorate bancarelle che vendono frutta secca io non riesco a resistere e compro sempre qualcosa per amici e parenti e voi ma faccio bene oggi infatti voglio parlarvi dei benefici delle albicocche secche mi sembrano un po miserelle non solo sono buonissime ma anche sane ovviamente parlo delle albicocche secche naturali e non glassate o colorate ma quali sono i loro benefici e come mangiarle vediamolo subito insieme se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video le albicocche secche sono un frutto leggero infatti contengono acqua per il 70 per cento in compenso sono ricche di fibre per un totale di un quinto del fabbisogno giornaliero e di vitamine come la vitamina a amica della pelle e alleata dell'organismo uno dei principali benefici delle albicocche secche è la loro proprietà diuretica ma sono anche efficaci per rafforzare il sistema immunitario contro l'inverno accelerano i processi metabolici e colmano eventuali carenze di vitamine insomma le albicocche secche sono un superfood nutriente a poche calorie cosa c'è di meglio durante l'inverno che assumere vitamine senza ingrassare le albicocche secche si prestano a vari utilizzi in cucina possono essere mangiate da sole oppure diventare la base per ricette dolci o salate io vi consiglio di provarle nello yogurt nei dolci al posto delle uvette o nelle insalate oppure cucinate nei secondi piatti per ottenere un sapore contrastato dolce salato un unico accorgimento bisogna masticarle molto bene perché nello stomaco si reidratano ed è meglio che siano in pezzi piccoli per non creare gonfiore avete visto amici come è facile mangiare bene e sano con le albicocche secche per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio